Ho che vestito metto? Ah no, siete? Anche vedo eh, anche vedo. Mi svolazzava con questo vetto. Non mangio i miei cordoni. Nella stanza mi svolazzava, le ciabattine. Le ciabattine. No, scusa. Hai visto? Hai visto? C'è il buco, questo qui. Perché? E perché quando voleva fare la pipì, lo metteva fuori il pipì e faceva la pipì. Ma scusa, faceva prima tirassù. Si vedono e stava bene. No, puoi darti che fosse la camicia che andava dentro i pantaloni e quello era il punto. Come stai cadendo? Sì. Guarda, guarda gli stai scarpe. Guarda gli stai scarpe. Guarda, sono di metallo. Tu ti immagini? Te lo immagini? Te lo immagini a Carcagni lì, come il tipo santo. Come a Carcagni? A Carcagni, veni lì, a cose. Ma gli ti batteva nel Malleuro. Quello lì te lo togliamo. Ti veniva tu Padriviglia tra i Carcagni. Te lo togliamo. Guarda le scarpine. No, io rimango in questo. Questo qui è bellissimo. Ma davvero? Ma non andava dentro? Allora cosa serviva? Pugliare al bellio? No, ma lo... Non faceva prima tirassù, scusa. Perché ti dava bene? Non lo so. C'è da fare uno studio su questo. Ciao. Ciao. Ciao.